9.101 delle commissioni che sono in distribuzione. Avverto altresì che fuori dalla seduta gli emendamenti Guerra 2.53, Marchi 6.53 e 9.51, Terzoni 6.02 e 12.6 sono stati ritirati dalle presentatrice. Grazie, signor Presidente. 1.3, Shullian ed altri, parere favorevole. 1.50, Marchi, parere favorevole. 1.53, Mura, invito al ritiro, parere contrario. 1.20, Planger ed altri, invito al ritiro, parere contrario. 1.60, Giovanna Sanna, invito al ritiro, parere contrario. 1.21, Planger ed altri, invito al ritiro. 1.56, Castiello ed altri, invito al ritiro, parere contrario. 1.51, Marchi, parere favorevole. L'altro non è segnalato, l'1.12. Bene, allora passiamo all'1.24, Terzoni ed altri, invito al ritiro, parere contrario. 1.33, Terzoni ed altri, invito al ritiro, parere contrario. 1.52, Marchi, parere favorevole. 1.58, Mi pare che questo sia stato appena ritirato, 1.58. 1.53, Marchi, parere favorevole. 1.34, Terzoni ed altri, invito al ritiro, parere contrario. 1.35, Terzoni ed altri, invito al ritiro, parere contrario. Ora c'è una batteria, tutti uguali. 1.1, Melilla ed altri, 1.4, Librandi ed altri, 1.13, Segoni ed altri, 1.42, Castiello ed altri. 1.59, Occhiuto, il parere è favorevole. 1.5, Marcon e altri, invito al ritiro, parere contrario. 1.54, Marchi, parere favorevole. 1.55, Marchi, favorevole, con riformulazione. Sì, me la dà la riformulazione, per favore. Sì, me la dai, per favore. Eccola qua, praticamente si mette... Sì. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente, 3 bis con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio del mare, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sentita lista, dentro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui al comma 2. Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti, 60 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 3 bis del presente articolo. Al comma 6, dopo le parole di cui ai commi, aggiungere le seguenti 3 bis. All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole 120 con le seguenti 180. Sì, grazie. Allora, l'ultimo 1.16, invito a ritiro parere contrario. D'accordo. Allora, il Governo, sottosegretario Barretta, prego. Conforma il relatore. Grazie. Allora, cominciamo, colleghi. Allora, siamo all'1.3, Sciullian. Il parere è favorevole di Commissione e Governo. Se nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Sì, d'accordo. Allora, forza, colleghi, che siamo in votazione. Affrettatevi, per favore. Tancredi. Vecchio. Vecchio. Tidei. Tidei. Attenzione, non scivoliamo sulle scale, Brignani. Grazie. Grazie.